Nel giorno che vede i precari dell'Asla provinciale scendere in piazza contro i gravitagli alla sanità previsti dalla legge Brunetta, il Consiglio provinciale si muove in difesa di tutto il sistema sanitario. Con un documento l'intera assise maggioranza e opposizione impegnano il Presidente del Corvo ad intervenire presso il Sottosegretario Letta, il Presidente Chiodi, perché ci sia una deroga per l'Asla Aquilana. Senza rinnovo dei contratti dei precari della sanità salta tutto il sistema sanitario. Noi attualmente colloquiamo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministro dell'Economia, perché essendo comunque una deroga che va a impattare sul patto stabilità ci vuole l'assenso del Ministro dell'Economia, però so che un'intesa in questo senso già si è ragionata. Se entro marzo non arriverà la deroga inserita nel mille proroghe, la provincia richiede direttamente alla Regione Abruzzo di intervenire, magari con una legge ponte per impedire la risoluzione dei contratti dei precari. In aula le sigle sindacali della sanità. Il rischio è che non si riescono a mantenere i livelli essenziali della sanità regionale. Al rischio non c'è solamente un problema occupazionale di 350 precari dell'Alze dell'Aquila, ma c'è la sostenibilità di questo sistema, perché senza quelle figure professionali si rischia veramente la chiusura delle parti con delle conseguenze inenarrabili per i cittadini che continuano a recarsi in quell'ospedale, anche nell'ospedale di Avezzano e continuano giornalmente a trovare dei disservizi importanti. Perché si è arrivati a meno di un mese dalla scadenza dei contratti dei precari per lanciare l'allarme sanità? È l'interrogativo che più ha legge in aula. Le responsabilità sono ben chiare in causa all'opposizione. Allarme lanciato da tempo dai sindacati, ma... C'è una responsabilità precisa del Presidente che era quella di inserire la proroga dei precari nel decreto mille proroghe. Nel decreto mille proroghe questa cosa qui non è stata inserita c'è una responsabilità precisa dei commissari e del Presidente della Regione Abruzzo.